Ciao, lezione sugli intrecci, le trame della commedia di Plauto. Mi sembra una lezione molto importante perché vedrai che lascia una traccia, potremmo dire così, indelebile di sé Plauto nel teatro, nel cinema, nell'arte, dei secoli successivi, dei millenni successivi, fino a giorni nostri. Esamineremo un po' più nel dettaglio questo. Partiamo subito da alcuni dati concreti, cioè che le trame sono estremamente convenzionali, cioè il pubblico non si aspetta particolari novità, per tanti motivi, sia perché nel prologo, e ti rimando alla videolezione sulla struttura della commedia Plautina, struttura tipo, già nel prologo c'è buona parte della trama, ci sono i protagonisti, ci sono in qualche modo quelli che sono gli inganni, ci sono un po' il lieto fine, che tutto suonato trattandosi di palliata, commedia di inventazione greca, il pubblico si aspettava. Abbiamo già detto anche parlando del rapporto fra Plauto e gli autori greci, beh, che spesso volentieri copia, contaminando, mescolando, a volte fa di loro le commedie e gli autori greci, ma alla fin fine, ecco, presumibilmente il pubblico già conosceva come andava a finire, o perlomeno poteva intuirlo con molta molta facilità. Quindi certamente non è nella trama particolarmente innovativa che si trova il quid dell'intreccio della commedia Plautina. In sintesi, che cosa possiamo dire? Gli intrecci si possono, in qualche modo, schematizzare in tre punti essenziali. Vediamoli, cioè, da una parte c'è la lotta fra due antagonisti, spesso è un padre contro il figlio, un anziano contro un giovane, questo figlio che è aiutato dal suo servus callidus, è una parola molto importante, un binomio che troviamo molto spesso associato alla commedia Plautina, cioè il servo intelligente, scaltro, astuto. Anche su questo poi ci torneremo, perché appunto, come mai al centro della commedia Plautina si trova un personaggio che dal punto di vista sociale è nullo? Perché al centro c'è un personaggio che invece, dal punto di vista della inventività, è eccezionale? Ecco, cercheremo di dare risposta nel corso di queste video lezioni. Secondo step dell'interaiccio è, sicuramente, che ci sono poi una serie di inganni e controinganni, ti sarai accorto anche leggendo le trame che trovi sul libro di testo, beh, che non sono per niente semplici, no? Sono molto ingarbugliati gli inganni, per cui c'è un qualche cosa di complicato, ma anche in questo caso non si preoccupava tanto il pubblico di seguire e neanche Plauto, forse, possiamo supporre, neanche si preoccupava troppo di far capire benissimo. C'è uno sketch simpatico, c'è una battuta divertente, c'è una battutaccia a volte simpatica, basta, l'obiettivo è raggiunto. Però questi inganni e controinganni, che sono spesso, abbiamo detto, orditi dal servus callidus, sono in vista di un possesso di un bene, e questo bene può, e più delle volte, è una donna, oppure del denaro. Vedremo. Come si chiude? Normalmente la commedia si chiude, ovviamente, con il lieto fine, però con il lieto fine per il giovane, che appunto, grazie agli anni e inganno del servus callidus, si è assicurato il bene agognato, e si restabilisce, alla fine della commedia, l'ordine. Ecco, per cui c'è una ricomposizione dell'ordine iniziale, per cui questo figlio ritorna in pace con il proprio padre. Magari si sposa con questa donna, che era stata osteggiata dal proprio padre, per i motivi che poi vedremo, ma ecco c'è una ricomposizione dell'equilibrio iniziale. Questo è molto importante per il messaggio finale della commedia plautina. Si possono anche schematizzare in altro modo, un solo di intreccio, c'è una situazione di partenza, un giovane è innamorato, stiamo ovviamente facendo la media, tra virgolette, fra 21 commedia, per cui poi sarai tu a capire quale è l'intreccio più simile a quella che stai studiando, ma in generale, guardando la trama di 21 commedia e plautine, beh, si può ricamare almeno questi due schemi che troverai in queste due slides, una seconda all'altra. Situazione di partenza, un giovane è innamorato della stessa cortigiana amata da suo padre, il che già ci fa capire qualche cosa del padre, questo servus, spesso libidinosus, viene definito un po' veramente fuori luogo, una persona grande, innamorata, innamorato della stessa persona, stessa cortigiana, ancora peggio evidentemente, una prostituta, di cui è innamorato il proprio figlio, qualche cosa di ovviamente un po' singolare. Il giovane ovviamente non ha denaro, il padre ovviamente è ricco, e il giovane chiede aiuto al proprio servo, diciamo il servus callidus. Il padre è certo che avrà, conquisterà il cuore della cortigiana. E poi c'è il momento di, appunto, di travaglio, diciamo così, della commedia, cioè l'inganno, la trasgressione, la trasgressione, nel senso che il servo, cioè un nulla, architetta un inganno per ottenere i soldi, per poi conquistare, nel senso di acquistare, la ragazza, oppure, in qualche modo, far capire che lei non è lei, o lei è un'altra, i vari inganni che troverai poi nelle trame, delle commedie Plauto, però c'è un inganno, trasgressione, che ovviamente portano i loro effetti. Cioè il giovane conquista il denaro e la ragazza grazie ad un reggiro, che ovviamente è illecito. Il padre è gabbato e resta senza denaro e senza ragazza, per cui rimane veramente un po' così. Parlavamo di ricomposizione finale, cioè i due giovani si possono finalmente sposare e il padre, tutto sommato, perdona al proprio figlio e al reggiro di cui è stato fatto oggetto. Un altro intreccio abbastanza tipico, appunto, un'altra situazione di partenza, un giovane è innamorato di una ragazza. Lui è di un mio origine, lei è una cortigiana. Il padre di lui si oppone al matrimonio, perché ovviamente non ci si può sposare con una prostituta. Il Lenone, appunto, colui che gestisce, no? Un squalidissimo personaggio nella commedia Plauto e anche nella realtà triste di oggi. Il Lenone si oppone ovviamente al matrimonio, perché è una proprietà sua, la cortigiana. L'annizione, ecco, queste sono le commedie dell'annizione, cioè del riconoscimento, attraverso diversi aschiamotaggi, possono essere appunto, per esempio, dei gioielli, dei semplici gioielli lasciati vicino alla bambina quando era piccola e quando è stata esposta, così veniva definita fino a qualche tempo fa, le ragazze, le bambine o i bambini che venivano rifiutati dalla propria madre una volta partoriti, quando vengono abbandonati, vengono abbandonati nella pubblica piazza. C'era a quel tempo, c'è ancora oggi, noi oggi purtroppo preferiamo ucciderli, ma insomma è un'altra possibilità quella di lasciare il bambino vivo all'ospedale, anche oggi si può appunto fare senza ricorrere alla ruota dei conventi che c'era fino a qualche tempo fa, si può fare tranquillamente in ospedale. A quell'epoca appunto si lasciava nella pubblica piazza e appunto chi passava di là poteva far proprio a questa normalmente bambina perché più remunerativa la si trasformava, la si cresceva, la si trasformava in cortigiana e poi poteva rendere del denaro. Squalidissimo, la nostra sensibilità non è assolutamente abituata a questo, però è una possibilità data a quell'epoca. Normalmente la bambina veniva lasciata con un anellino, un braccialetto, una collanina, eccetera. l'agnezione vuol dire che passati degli anni questo anellino, questo piccolo monile viene riconosciuto e quindi si riconosce non soltanto l'identità della bambina ma anche la sua situazione di donna libera. E allora capisci che l'agnezione trasforma un po' tutto. La ragazza non è più una cortigiana ma è di buona famiglia e quindi il padre non ha più motivo di opporsi al matrimonio, la ragazza è libera, non può avere i padroni e quindi il lenone non può ovviamente avere dei diritti su questa ragazza. Ricomposizione finale di due giovani finalmente si possono sposare d'amore e d'accordo. Chi rimane veramente aggabbato è proprio il lenone che ha perso una fonte di reddito sicura. Oltre a questi due tipologie di intrecci noi andiamo riconoscendo almeno un altro o altri un altro paio di intrecci possibili che segnano come dicevo all'inizio della videolezione possiamo dire l'inizio di un topos letterario molto importante. L'anfitrio e ti consiglio di guardare con un po' più di calma anche se ne parleremo un pochettino la trama sul tuo limbo di testo inventa crea proprio il topos letterario del doppio. estremamente produttivo possiamo dire così estremamente interessante anche da un punto di vista semplicemente mentale ovviamente la trama ci dice che Giove innamoratosi di Alcmene capricciatosi meglio di Alcmene una donna un essere umano si presenta sotto le spoglie del marito anfitrione attento che poi sono tutti i nomi che poi restano nel nostro vocabolario l'anfitrione appunto è il padrone di casa che invita la gente fare l'anfitrione quindi fare gli onori di casa impegnato in quel momento una guerra a Tebbe trascorre con lei una lunga notte d'amore insieme a Giove c'è Mercurio che lo accompagna e sta di guardia la casa per evitare che il suo il suo signore Giove venga appunto disturbato e Mercurio ha assunto le sembianze di sosia altre termine che torna il sosia appunto è una persona uguale ad un'altra si dice che ognuno di noi abbia sei sosia in giro per il mondo chissà chissà se è vero ma insomma inventa applauto il termine sosia è il vero schiavo di anfitrione e Mercurio prende le sue sembianze mentre Giove che ha le sembianze di anfitrione giace a letto con archmena sosia il vero sosia torna da Tebbe di corsa per annunciare l'arrivo del suo vero padrone anfitrione da capire si crea subito una situazione piuttosto ambigua nel senso che c'è il sosia vero che parla con il sosia finto alias Mercurio dicendo ma tu chi sei ma tu che vuoi davanti alla casa del mio padrone e Mercurio difende con tutta la sua forza la propria identità di sosia che evidentemente non è sosia creando una situazione piuttosto ambigua e difesa con tale dialettica con tale forza anche con forza fisica che Mercurio convince sosia di non essere sosia perché dico che sono interessante ovviamente tutto si risolve alla fine davvero tutta una serie di equivoci c'è la ricomposizione finale però perché mi sembra interessante perché ti renderai conto solo che c'è una genialità di fondo oltre al giochetto assumere le spoglie di eccetera però c'è una genialità di fondo nel senso che l'attore è già una finzione cioè l'attore che sta impersonando giove ovviamente non è giove è un altro e entrato in scena prende le parti di anfetreone quindi c'è una distanza platonicamente parlando di duplice grado rispetto alla realtà per cui c'è l'attore che incarna giove che incarna anfetreone e tutti il pubblico tutti gli spettatori sanno questo e ci stanno a questo gioco gioco che parla capisci da solo della commedia stessa non è semplicemente così giove che per andare a letto con l'alcmena prende i panni dell'infettrione è che proprio c'è un contenuto metatratale estremamente forte e ti segnalo anche ovviamente quanto su questa tematica del doppio giocheranno nel novecento diventerà tematica essenziale nel novecento basti pensare appunto ad un ad un mattia pascal per esempio no piandello scrive questo mattia siamo nel 1900 prima metà del 1900 i primissimi anni del 1900 pascal diventa adriano meis per poi tornare mattia pascal e lì c'è un problema evidentemente della crisi di identità che è tipica del novecento a causa poi di tante cose che vedrai se vuoi vetti vedere le video lezioni sui maestri del sospetto e la crisi del romanzo fra otto e novecento per avere qualche ragguaio su questa tematica che ti ripeto inventa plaudo nel 200 avanti cristo quindi siamo davanti a un personaggio estremamente importante che ti invita appunto ancora una volta a studiare molto molto bene un altro tipo di intreccio è quello della commedia dell'equivoco cioè l'equivoco per eccellenza è lo scambio di persona evidentemente in parte simile a quello che vediamo prima in parte diverso ti segnalano appunto la commedia dei menekmi che significa appunto fratelli gemelli simillimi simillimi questo superlativo che se ci pensi non ha senso simillimi ugualissimi e sono simili sia nel nome appunto vengono chiamati menekmo 1 e menekmo 2 ma anche ovviamente nell'aspetto fisico allora tutto si gioca tutto il divertimento si gioca perché ovviamente il menekmo che va a cercare due fratelli gemelli separati dalla nascita a un certo momento uno dei due va a cercare l'altra in un'altra città che non è la sua evidentemente il menekmo che va a cercare si è sposato a un suo c'era degli amici o delle cose per cui tutta la il divertimento nasce dal far capitare sempre in scena il menekmo non sposato nel contesto invece familiare affettivo parentale del menekmo sposato e che tutto questo genera ilarità perché il pubblico conosce si pone sempre ad un piano superiore rispetto ai protagonisti ai personaggi il pubblico e di questo ovviamente arriva con molta serenità è interessante perché ti dico che è interessante perché la tematica della tematica appunto del simile del sosio eccetera eccetera è molto produttiva e lo vedremo nelle prossime slides mi fermo una piccola parentesi la faccio sulle commedie cosiddette di carattere cioè quando Plautus si ferma su un unico personaggio cioè cerca di scavare ma non ci riesce un gran che bene al contrario di quello che avverrà con Terenzio ti rimando alle video lezioni su Terenzio perché appunto lo scavo psicologico non porta con sé la risata immediata la risata spontanea improvvisa davanti alla battutaccia porta molto spesso ad una riflessione anche un po' un po' a volte ecco abbiamo due commedie di carattere in cui c'è una unica mania monomaniacale in termine greco monos unica uno e mania e follia un'unica follia cioè il miles gloriosus con il soldato fanfarone Piergopolinice che si crede chissà chi in battaglia con le donne è bravissima è il più bello di tutti eccetera eccetera e anche nella aulularia dove invece Euglione è appunto roso possiamo dire così dalla sua avarizia questa ossessione però ti dico anche in questo caso attento perché il avaro è vero che abbiamo detto è un po' meno brillante plaudo quando cerca di scavare perché non gli interessa lo scavo psicologico al contrario di Terenzio però attento perché proprio da queste commedie nascono tantissime commedie che forse studierai nei prossimi anni penso all'avaro di Molière e stiamo 1668 Arpagone l'avrei sentito forse nominare questo questo sangio avido desideroso di sempre più ricchezze e soprattutto di non sperperare mai in nessun caso e penso al nostro Goldoni che dedica addirittura cinque personaggi in altrettante cinque commedie con noi siamo nel 1700 ormai nella seconda metà del 1700 e leggo appunto che scrive il Lavaro nel 1756 il geloso avaro nel 1757 l'avaro fastoso nel 1776 quindi dedica tante commedie un venticinquennio circa di di produzione teatrale di Goldoni sono dedicate all'avaro ma ricorderai magari appunto se sei appassionato ed è un libro che ti consiglio di leggere Eugénie Grandet di Onore de Bazac in cui papà appunto papà grande è un avaro ma come non ricordare e ti rimando ancora una volta se hai voglia di approfondire è Mastro Don Gesualdo del nostro Verga siamo nel 1889 1889 Plauto scrive nel 200 avanti Cristo chiudo con un riferimento all'oggi cioè queste commedie dicevamo dei simillimi in cui si scontrano in scena diverse mi sono dimenticato di mettere appunto fra gli avari famosi ovviamente quello di Walt Disney Walt Disney muore nel 1966 ma chi di noi non ha letto almeno un numero di Topolini in cui c'è questo ricco zio che appunto è avarissimo le bustine di tè usate più volte eccetera eccetera nella storia la commedia degli equivoci che fine fa e beh ce l'hai ovviamente nella nel remake bah non saprei come definirla ma insomma la commedia degli errori è la commedia degli equivoci di Shakespeare si tratta appunto di una commedia scritta nel fra il 1589 e il 1594 come anche sempre rimanendo nell'ambito inglese nella dodicesima notte no da cui hanno fatto diversi film e ti consiglio questo che trovi in Lucandina e siamo a cavallo del 16 ma ancora in Gordonia ancora una volta vedi quanto rimane produttivo anche nei nostri autori i due gemelli veneziani nel 1747 viene rappresentata a Pisa per la prima volta questa questa locandina che ho trovato in rete fa riferimento appunto a questo festival non ci resta che vedere in cui questa compagnia è stata premiata per la presentazione di questa commedia goldeniana ma ancora passando al cinema per esempio la donna che ha visto due volte è un film che ti consiglio vivamente ha fatto la storia del cinema e regge sicuramente ancora il ritmo ha fatto talmente bene da quel genio che è Hitchcock che ancora oggi che siamo abitati a ritmi ben diversi regge ancora la tensione siamo nel 1958 e per arrivare a tempi più recenti ti consiglio di prestigio un film di Christopher Nolan del 2006 che va personalmente ritengo uno dei più grandi registi dei nostri tempi un film eccezionale con un cast pazzesco lo vedi qua nella lo vedi ed è interessante perché è un film che ti lascia che ti lascia come definitivamente dipendente dallo schermo e tutto si risolve nell'ultima scena ovviamente non ti spoiler nulla questa locantina ti fa vedere bene di cosa stiamo parlando tutto questo per dire cosa che Plauto lascia traccia di sé proprio con le sue commedie tutte uguali tutte ripetitive convenzionali abbiamo detto lascia traccia di sé nella storia della dell'arte dell'arte in genere dei secoli dei millenni successivi quindi siamo davanti a un odore estremamente importante alla prossima la prossima Grazie.